Esatto, non so fare i muzzle flashes, ma imparerò! Munizioni! Ho bisogno di munizioni! Ma che cazzo fai? Ah, perché non basta passarci le vanni? Capitan America! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Un medico cazzo, un medico! Fai qualcosa no? Ah, perché non basta passarci le vanni? Un bel giù! Un bel giù! Un bel giù!